Un parco particolare con un assistente virtuale? Sì, è un parco particolare perché sono attrezzi su cui poi con barcode si possono fare i vari programmi di allenamento, ma la particolarità sta nel fatto che sono solo 8 in Italia approvati, grazie alla Xen che ci ha scelto per questo progetto ed è un progetto che riesce in qualche modo ad amalgamarsi con quella che è una delle cose che stiamo cercando di fare, cioè dare degli spazi per i giovani. Quindi oltretutto è il primo passo e dobbiamo ringraziare proprio la Xen perché questo primo passo, farlo con noi, sceglierci tra 8 comuni in Italia, è veramente una bella cosa. Questa location perché era già in qualche modo occupata da uno skateboard che ci avevano chiesto i giovani, perché vicino c'è un campetto che useremo per i giovani e quindi in analogia a tutto questo avremo proprio una zona adibita a loro che poi gestiremo in vari modi ma insieme a loro. Vista la location, a quando le prime telecamere per evitare che qualcuno possa compiere degli atti vandalici? Noi anche su questo abbiamo avuto un finanziamento per le telecamere, siamo nella fase del progetto esecutivo e quindi io non credo ci vorrà molto, i tempi sono quelli di elargizione semplicemente di questo contributo. Xen è un ente di promozione sportiva, primo in Italia come numeri, e ha creato questo progetto che si chiama Ci vediamo da Chris, un acronimo inglese impronunciabile, ma il senso è la creazione di spazi adibiti allo sport, dati al territorio, in modo tale che i ragazzi, le persone, i cittadini possano usufruire gratuitamente di macchine professionali adatte per gli ambienti esterni. Segnalo che sono state individuate solo otto zone in tutta Italia, una di queste è la provincia d'Imperia, e il Comune di Santo Stefano ha capito immediatamente l'importanza di queste iniziative e ha risposto alla nostra chiamata. Siamo contentissimi di questo, siamo contentissimi perché ce n'era veramente bisogno, quest'area qua era un'area che aveva proprio bisogno di ristrutturazione, appena abbiamo saputo di questa cosa, che c'era la possibilità di fare questa palestra all'aperto, che l'amico Elio in qualche modo ha contribuito a informarci di questa cosa, ne siamo stati felici e siamo subito partiti. Ci siamo attivati e i risultati si possono vedere, la palestra è qua, quindi questa zona ha proprio cambiato faccia. Quindi Santo Stefano ancora più bella e anche poi viva lo sport, perché, come si dice, il mente è sano e il corpo è sano, quando lo sport è importantissimo per i giovani e per tutti.